Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 22-23 anche a Barletta dove l'esercito italiano ha incontrato gli studenti di scuole elementari e medie cittadine a partecipare all'evento. Il distaccamento dell'82esimo reggimento Fanteria Torino, storico punto di riferimento militare della città della disfida, l'anfiteatro del Castello Svevo, ha visto la cerimonia dell'alza bandiera e il suono simbolico della campanella. È una inaugurazione sui generis ma molto formativa perché noi dobbiamo accompagnare i nostri ragazzi dalla più tenera età la conoscenza delle forze armate e in particolare dell'esercito e insegnare loro l'avvicinanza di quanto fa l'esercito per tutti quanti noi. È un modo per riflettere anche sulla nostra Costituzione, sui corpi che fanno parte della nostra quotidianità, che consentono di farci vivere con serenità. Quindi per queste classi e per tutte le classi, perché in realtà in tutta la provincia di Bari si stanno svolgendo analoghe manifestazioni, è un momento formativo. Ecco, va inteso in questa maniera e certamente ci porta alla conduzione di questo anno scolastico con maggiore serenità e maggiore felicità. Il confronto con l'esercito rappresenta un segnale di vicinanza degli studenti ai valori della patria, ma anche un'occasione per conoscere la disciplina della divisa. A ciò si aggiunge il ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia attraverso la partecipazione degli allunni ad un evento istituzionale. Noi veniamo da questi due anni così complessi, quindi ci aspettiamo che, nei quali abbiamo potuto registrare la fragilità di alcuni dei nostri ragazzi e della difficoltà del non stare insieme, diciamo che cosa comportava naturalmente. Ora stiamo affrontando questo anno invece con serenità, diciamo certamente ci saranno problemi ancora da risolvere, ma diciamo che siamo forti anche dell'esperienza che abbiamo vissuto nei due anni precedenti e quindi andiamo avanti con fiducia.